La conversazione di questa sera ha, non per caso naturalmente, lo stesso titolo di questo volume, pubblico, privato, comune, che è un volume curato dalla nostra ospite Laura Pennacchi e raccoglie una nutrita serie di saggi, di affermati studiosi, che sono stati chiamati dalla CGL a discutere del ruolo dell'intervento pubblico in economia. Laura Pennacchi, infatti, per chi non la conoscesse, è un'economista. È stata parlamentare e sottosegretaria al Tesoro con il ministro Carlo Azzeglio Ciampi, che infatti ha scritto una presentazione per questo libro. La mia domanda a Laura Pennacchi sarà questa. Che cosa ha a che fare con l'economia il tema dei beni comuni? Noi ne abbiamo già sentito parlare molto lungamente in queste due dense giornate, abbiamo sentito la voce dei giuristi. Per la verità, anche i giuristi hanno smarrito, per qualche secolo forse, il significato di beni comuni. Avete sentito parlare da Ugo Mattei delle terre comuni, che una volta esistevano in molte parti d'Europa, della vicenda delle enclosure del Regno Unito, che sottrassero all'uso comune le terre dei contadini. Ma questo è un fenomeno che c'è stato in diverse parti d'Europa, anche in Italia. In Sardegna la legge delle chiudenda ha fatto un'operazione del genere, sottraendo le terre comuni all'uso dei pastori, appunto dei cittadini che pensavano, e ne facevano per la verità, un uso molto saggio, perché era regolamentato molto strettamente ciò che si poteva o non si poteva fare, perché allora si aveva uno sguardo verso il fatto del mantenimento per le generazioni future di questi beni. Tutto questo poi è scomparso perché, come avete sentito, nella modernità è prevalso l'idea della proprietà privata come sovranità assoluta, e la stessa ottica della proprietà esclusiva, si è trasferita anche alla proprietà pubblica. E sempre di più anche nei nuovi mondi, siano quelli fisici, siano quelli invece non fisici come Internet, si sta avviando questo tentativo di appropriazione dei beni comuni. A chiarire, in tempi piuttosto recenti, il concetto di beni comuni ha provveduto la Commissione Rodotà, che fu incaricata nel 2007, ne avete forse sentito già parlare di questa Commissione, la Commissione Rodotà è stata incaricata nel 2007 dal Governo Prodi, di proporre una nuova normativa sui beni pubblici e una nuova classificazione dei beni. E la Commissione ha formulato una proposta innovativa molto interessante, che ovviamente il nuovo Governo ha completamente ignorato. La proposta comprendeva una nuova fondamentale categoria, quella dei beni comuni, i quali devono essere salvaguardati nell'interesse delle generazioni future, e quindi amministrati secondo criteri di solidarietà. Ne fanno parte, è ovvio, come avete sentito, le risorse naturali, l'aria, l'acqua, i fiumi, i torrenti, i laghi, i parchi, le foreste, le zone boschive, i ghiacciai, le nevi perenni, i tratti di costa dichiarati riserva ambientale, la fauna selvatica, i beni archeologici, i beni culturali, i beni ambientali. E' una prospettiva molto seria, la formulazione è stata consegnata ai Governi, speriamo che non si tardi a riprendere in mano questa importante proposta. Ma nell'ambito dell'economia, che succede? A me pare che il tema dei beni comuni sia stato piuttosto ignorato da quella teoria neoliberista che ha imperato nel mondo, perlomeno negli ultimi vent'anni, e che, nonostante i fallimenti messi in luce dalla prima crisi finanziaria ed economica veramente globale, quella che ha investito i nostri Paesi quattro anni fa e che continua a metterne a rischio i bilanci, è una teoria che continua ad imperare. Sembra quasi che solo fra gli economisti sia stata presa sul serio quella stravagante idea della fine della storia, preconizzata da Fukuyama dopo il crollo del muro di Berlino. Si domandava, la democrazia liberale è il culmine dell'esperienza politica? Si domandava, dopodiché nulla più deve succedere. Beh, io credo che molti dei nostri guai derivino proprio dall'essersi fatti suggestionare da questa discutibilissima teoria economica, quasi che rappresenti le leggi dell'economia, una scienza, non un'ideologia. Ora, se io non ho inteso male il senso complessivo del pensiero di Laura Pennacchi e dei coautori di questo volume, la loro idea è che la crisi finanziaria ha mostrato il fallimento della teoria neoliberista, il cui modello in qualche modo ne escudeva addirittura la possibilità di una crisi così drammatica. E questa stessa teoria ha poi imposto paradossalmente massicci interventi pubblici per il salvataggio delle banche che erano in gran parte responsabili della vicenda precedente, della stessa crisi. E senza che si sia fatto strada un doveroso ripensamento di quel modello, che è insieme responsabile della crisi e incapace di trovarne adeguati rimedi. Ora, questi rimedi potrebbero invece, e dovrebbero forse, essere ricercati sulla base di una complessiva riflessione sulle ragioni della crisi, nelle quali si intrecciano crescita delle disuguaglianze, ce ne ha parlato fin da ieri il professor Prodi, incremento della precarietà del lavoro, finanziarizzazione dell'economia, assenza di regolamentazione e di controlli delle operazioni finanziarie, effetti forse inevitabili dell'applicazione del modello liberista, che è un modello, peraltro, guardate, che costituisce una autentica distorsione del pensiero liberale classico. Ho letto che Laura Pennacchi ha osservato molto giustamente che Adam Smith era un docente di filosofia morale, aveva ben conscio l'idea del bene comune. Ora, ripensare quel modello significa definire quali debbano essere le finalità di un intervento pubblico nell'economia, di una politica economica di regolazione dei mercati, di gestione dell'economia, di riforma della pubblica amministrazione, di fiscalità, di redistribuzione, che abbia come scopo finale non quello di arricchire i più ricchi, ma di garantire i diritti fondamentali delle persone. È una politica nazionale che non ignori la dimensione sovranazionale e globale dei mercati e quindi si proponga di cercare le necessarie convergenze per una regolamentazione concordata a quei più vasti livelli, a partire per l'appunto proprio dall'Unione Europea, che costituisce oggi un singolare paradosso. Noi vogliamo che faccia, abbiamo bisogno che faccia, e non vogliamo dargli i poteri necessari per farlo. Abbiamo una moneta unica senza dietro un governo dell'economia, ma il governo dell'economia rimane agli Stati membri, perché gli Stati membri non vogliono delegare questo potere all'Unione Europea. vogliamo che ci sia una voce sola dell'Europa nel mondo, ma rifiutiamo di dare i poteri per una politica estera comune. Ciascun Paese vuol fare la sua politica estera. Ecco, questo paradosso di questa Unione, che è una straordinaria invenzione capace, se la prendessimo sul serio e la utilizzassimo per quello che può essere di affrontare i problemi che ci vengono dalla globalizzazione, eppure rimani nella metà del guado. E questo, però, io credo che sia soltanto una cattiva politica. Non è detto che debba essere sempre così, che non ci possa essere un'alternativa, una diversa politica che non sia meramente tributaria, di un'ideologia che, al pari di ogni altra nel passato, ha dimostrato le sue fragilità, ha dimostrato anche il suo fallimento. Io so che Laura Pennacchi coltiva questa diversa prospettiva, in cui credo che abbiano un ruolo anche beni comuni, beni ambientali, patrimonio culturale, un ruolo all'economia verde, un'economia della conoscenza. Ecco, io chiedo appunto a Laura Pennacchi di darci la sua opinione, di dirci come la pensa in questo complesso problema di un passaggio a un nuovo modello economico, e possibilmente ci sollevi dallo sconforto in cui ci piomba la mera contemplazione dello stato di cose presenti. Grazie. In effetti, quando approcciamo il problema del posto dei beni comuni e dell'interazione pubblico-privato-comune auspicabile per fare posto ai beni comuni, scienza della disposizione dei beni, dei beni scarsi, della scarsità, si ritiene scienza della disposizione, della produzione, della distribuzione dei beni scarsi, è nata con Adamo Smith, con Riccardo, con Carlo Mars, come economia classica, con una enorme attenzione al problema dei beni comuni, e si è trasformata in una scienza che ha espulso da sé la problematica dei beni comuni, trasformandosi soltanto in una scienza che disciplina la produzione e la distribuzione dei beni solo a partire dalla proprietà privata, con una ipostatizzazione della proprietà privata enorme, come se tutte le società e tutta la storia fosse stata segnata da questo destino naturalmente, naturalisticamente determinato della proprietà privata, e soprattutto come scienza neoclassica, abbandonando quindi i presupposti dell'economia classica, per arrivare fino al neoliberismo degli ultimi 30 anni, è arrivata a una ipostatizzazione assoluta della proprietà privata e del mercato e dell'autoregolazione dei mercati, sostenendo l'efficienza e la razionalità assoluta del comportamento dei mercati che hanno espulso i beni comuni, li trattano soltanto come esternalità, come beni su cui c'è non contendibilità, non sostituibilità, confinandoli nel novero praticamente della trattazione dei beni pubblici come è per esempio la costruzione di un'autostrada e il fatto che nessuno può essere escluso dalla possibilità di godere, di usufruire di quel bene. Questo paradosso dei paradosso di cui ho parlato hanno costruito una modellistica economica basata su queste ipostatizzazioni che però è arrivata ad un collasso terrificante perché la crisi economica globale, la prima crisi veramente globale che ha investito tutto il mondo e che nel 2009 ha visto per la prima volta dalla crisi del 1929 un decremento negativo di tutto il PIB globale quella crisi che peraltro non è per niente finita non è vero che sia finita noi abbiamo in Italia dei governanti che hanno sostenuto addirittura che non fosse mai iniziata che fosse soltanto un'impressione psicologica una sorta di malumore di cattivo umore con cui noi considerevamo le nostre vite e oggi esaltano il fatto che ne saremmo fuori senza considerare che per esempio in Italia abbiamo considerando anche la cassa integrazione la cassa integrazione ordinaria straordinaria abbiamo milioni di disoccupati alcuni effettivi 2 milioni e 200 mila effettivi e poi tutti gli altri che sono in cassa integrazione siamo quindi in una situazione molto difficile anche perché l'epicentro della crisi si è spostato come Elena Paciotti ricordava dagli Stati Uniti all'Europa dalla crisi del maggio dell'anno passato che ha investito la Grecia poi l'Irlanda poi il Portogallo a tutt'oggi siamo in una situazione delicatissima alla quale l'Europa gestita da governi di destra di centro-destra contravvenendo quindi alla sua ispirazione fondamentale che è un'ispirazione di progresso sta ora rispondendo adottando politiche di austerità generalizzate che rischiano di aggravare ancora di più i problemi recessivi delle economie più deboli e di non trasformare gli squilibri che sono all'interno dell'Europa che vedono la Germania ai paesi affini alla Germania all'Olanda ai paesi dell'est Europa e però tutta l'altra area compreso l'Italia ai paesi dell'area mediterranea afflitti da squilibri squilibri delle bilancie dei pagamenti squilibri degli assetti produttivi molto seri che rischiano di costituire un'ipoteca molto forte sulla ripresa economica che peraltro nella misura in cui sta avvenendo ci dicono i nuovi le nuove restali dell'ortodossia economica dobbiamo accettare come nuova naturalità sempre si torna a questo concetto del naturalisticamente determinato la jobless recovery una ripresa senza lavoro senza rendersi conto che dicendo questo dicono un'enormità perché pongono in questione perfino io dico e con me lo dicono altri studiosi più attorevoli di me una questione tengono perfino in questione la legittimità del capitalismo perché il capitalismo non si giustifica se non riesce a creare lavoro quindi sostenere come nuova normalità la job dell'est recovery è veramente qualcosa di aberrante la crisi però quei paradossi di cui parlavo che hanno fondato la disciplina economica nelle forme che ha assunto come economia neoclassica e poi come economia neoliberista si è manifestata in forme terribilmente dirompenti anche perché è crisi di un intero modello di sviluppo non è un episodio non è un epifenomeno è una crisi strutturale che mette in questione un intero modello di sviluppo e basta pensare ricordare le variabili di fondo che hanno interagito in quel modello e che sono tutte ciascuna di loro hanno portato alla deflagrazione attuale basta ricordare le variabili basta ricordare la deregolamentazione sprenata che c'è stata soprattutto dalla fine degli anni 90 ad oggi l'innovazione finanziaria altrettanto sprenata che ha portato a creare un mostruoso sistema finanziario ombra il cosiddetto shadow system talmente vasto e ramificato che a tutt'oggi non sappiamo quanti sono e dove sono annidati i titoli tossici che hanno intossicato il mondo e anzi a tutt'oggi posto che il sistema bancario e finanziario internazionale è stato doverosamente salvato doveva essere salvato ma è stato salvato in forme improprie a tutt'oggi siamo addirittura a una proliferazione dell'ipertrofia di quelle di questa innovazione finanziaria di cui le age of fund per esempio sono un'elemplificazione importante ma le altre variabili sono state la creazione di una cultura e di un'economia del debito dell'indebitamento facile ricordate i famosi subprime che sono stati all'origine dell'esplosione della crisi i subprime sono stati mutui cosiddetti di seconda scelta che sono stati spinti ad essere attivati da parte di famiglie che non potevano consentirle consentirselo spinte ad indebitarsi in forme mostruosamente perverse appunto che oggi adesso abbiamo soprattutto negli Stati Uniti d'America e nel Regno Unito milioni di persone che hanno perduto la loro casa questa enorme creazione di un'economia di una cultura del debito è stata veicolata al fine di compensare con il debito e spingere a un consumo consumo di case consumo di beni voluptuari consumo di qualunque bene di lusso consumi che venivano peraltro dai paesi sopravvenuti allo sviluppo economico mondiale dell'Asia la Cina l'India e altri paesi che producevano a basso costo quindi questi beni potevano essere comprati e consumati dai lavoratori dei paesi sviluppati di cui anche noi facciamo parte la cui capacità di spesa veniva sostenuta con questo indebitamento con questo indebitamento terribile che è stata una delle cose che è stata anche facilitata dalla leva dei tassi di interesse che è stata gestita dalle banche centrali mondiali dalla Federa Reserve e dalle altre banche centrali degli altri paesi sviluppati tutto a compensazione di salari tenuti bassi e stagnanti e questi salari tenuti bassi e stagnanti hanno fatto sì che i salari non riuscissero a recuperare potere d'acquisto a acquisire una parte dei guadagni di produttività che venivano tutti acquisiti dai manager e soprattutto dalla finanza l'ipertrofia della finanza ha anche significato che la finanza ha acquisito enormi profitti di fatto rendite trasformate in rendite finanziarie quindi le variabili che hanno dato vita a quel modello di sviluppo perverso che è deflagrato con la crisi economica mondiale sono variabili di questa natura gli economisti per tornare all'economia gli economisti sono colpevoli non tanto per non aver previsto la crisi come il ministro Tremonti ama spesso con scherno dire abbandonandosi allo scherno che lo caratterizza in molte occasioni non tanto per questo perché le previsioni sono sempre materia molto opinabile e comunque ci sono stati economisti tra cui il premio Nobel Stiglitz o Rubini che avevano o Krugman o Paul Krugman che la crisi l'avevano prevista e come gli economisti sono criticabili per aver costruito modelli teorici che spellano la tematica dei beni comuni dall'ambito dell'intellegibile e del razionalmente indagabile modelli teorici che rendono impossibile la crisi che la naturalizzano a priori e di fatto quindi non la rendono più una circostanza un'evenienza della possibilità reale e quindi ci hanno fatto trovare impreparatissimi alla catastrofe nella quale stiamo vivendo tra l'altro questa espulsione dei beni comuni ed espulsione della crisi dall'ambito del possibile e del razionalmente indagabile va il paio con un'altra operazione che gli economisti del mainstream economics hanno compiuto trattando anche i beni comuni e quella di trasformare l'agente sociale l'agente economico in particolare in un homo economicus che sarebbe un individuo autointeressato meschinamente angustamente autointeressato avido acquisitivo possessivo egoista che non vuole pagare le tasse che non vuole sostenere nessun principio di responsabilità collettiva questa è la visualizzazione dell'agente dell'attore sociale fondamentale che è qualcosa che voi vi rendete ben conto mina alle radici l'idea stessa della possibilità di esercitare responsabilità collettiva dicendo tutte queste cose ci rendiamo conto di quale operazione culturalmente molto aggressiva e agguerrita è stata compiuta nell'insieme dal neoliberismo che espelle la problematica dei beni comuni e allora siamo obbligati a interrogarci un po' più radicalmente sul neoliberismo su che cosa è stato e su che cosa è oggi e dico è oggi perché all'inizio della crisi un po' sommariamente alcuni hanno pensato alcuni soprattutto di uno schieramento di centro-sinistra che il neoliberismo fosse finalmente finito che il neoliberismo fosse inresa si fosse arreso e fosse inresa non è affatto così e noi il neoliberismo lo ritorna il neoliberismo ritorna e lo vediamo in azione proprio quando vengono adottate le politiche di austerità restrittive simultaneamente da tutti i paesi europei guidati da governi di centro-destra o quando vengono imposte al povero Papa Andreo o alla povera Grecia delle politiche selvagge invece di fare più sane più corrette parzialmente magari adeguate ristrutturazione del debito che farebbero pagare anche i creditori una parte della crisi a cui appunto si va incontro quindi c'è un'operazione culturale molto forte che oggi ci viene riproposta riproponendoci nuovi paradossi per esempio l'intervento pubblico e qui richiamo l'interazione pubblico privato comune l'intervento pubblico è stato invocato per il tempo di salvare il mondo dal collasso sono gli stati che hanno salvato il mondo dal collasso e ora che il sistema bancario e finanziario internazionale è stato salvato e bisognerebbe ora sostenere l'occupazione combattere la jobless recovery sostenere i redditi dei centimedi che sono il nervo delle società soprattutto nelle società avanzate ora si dice che l'intervento pubblico non deve più esserci bisogna tornare a politiche di austerità restrittive avverse alla spesa pubblica in particolare alla spesa sociale e qui c'è un secondo paradosso che ritorna il modello sociale europeo con forti sistemi di welfare con forti sistemi di protezione sociale ha mostrato nella crisi soprattutto nei primi mesi dell'esplosione della crisi una sua straordinaria superiorità rispetto al modello anglosassone pensate che nel febbraio del 2009 nei primi mesi della crisi l'argentina è stata costretta a nazionalizzare i dieci fondi pensione privati con cui aveva fatto nel 1994 la privatizzazione della sua social security privatizzazione della social security pubblica che cosa vuol dire vuol dire affidare il risparmio previdenziale ai mercati finanziari quando i mercati finanziari crollano crollano anche il risparmio previdenziale e l'argentina si è trovata in una situazione nella quale non avrebbe potuto più pagare nemmeno le pensioni in essere sicché ha dovuto nazionalizzare i dieci fondi pensione privati e Obama nel primo anno del suo mandato da una parte ha salvato l'industria dell'auto perché si è trattata di una vera e propria nazionalizzazione dell'industria dell'auto per quanto transitoria e l'ha salvata per salvare l'industria dell'auto cosa che i nostri governanti rispetto alla Fiat si sono ben guardati dal compiere alcunché nel senso di impegnare la Fiat a investimenti in Italia Obama salva l'industria dell'auto la salva perché vuole salvare l'industria in quanto tale ma anche perché per i lavoratori dell'auto essendo americani essendo la previdenza una previdenza di fondi pensione aziendali se non ci fosse stato quel salvataggio i fondi pensione della Criere non avrebbero avuto pensioni risorse per pagare le pensioni e i fondi sanitari assicurativi aziendali non avrebbero avuto risorse per pagare la sanità aziendale e Obama nel primo anno del suo mandato ha concentrato enormi sforzi per dotare il popolo americano di una riforma sanitaria ispirata all'universalismo dei sistemi dei modelli sociali europei anche se ha dovuto fare i conti con dei conflitti terribili e con l'opposizione dei Tea Party di queste strutture altro che aggressive che stanno riorganizzando il neoliberismo e il neoconservatorismo su scala mondiale adesso ci si viene a dire che la prima spesa che deve essere tagliata è la spesa sociale e quindi questo è un altro paradosso inaudito ma dicevo entriamo più dettagliatamente su che cos'è il neoliberismo su che cosa è stato e che cos'è il neoliberismo è soprattutto tre cose finanziarizzazione estrema dell'economia e di questo ho già accennato e insisto ma insomma non ci torno a sé commodification e cioè mercificazione di tutto quindi altro che beni comuni qui viene mercificato perfino il genoma umano viene ridotto il genoma umano a merce e voi ricorderete che Carl Polani grandissimo studioso a proposito dei beni comuni diceva studiando la grande transizione la great transition a cavallo tra le due guerre mondiali diceva che c'erano tre cose che non potevano essere mercificate e queste tre cose erano la terra la moneta il lavoro voi vedete è che con la finanziarizzazione estrema c'è un altro che commodification e mercificazione della moneta la moneta proprio non esiste più come bene non mercificato la terra siamo di fronte a una mercificazione che addirittura giunge a metterne in questione la sopravvivenza del pianeta perché siamo con tutte le problematiche dell'inquinamento della riduzione della biodiversità dell'aggressione alle foreste dell'aggressione all'acqua stiamo stiamo mettendo in discussione perfino la sopravvivenza del pianeta e il lavoro anche il lavoro viene ridotto a merce soprattutto nei paesi emergenti che pagano salari bassissimi e che usano questi salari bassissimi come concorrenza e competizione diretta con i salari dei paesi più sviluppati e quindi ci sarebbe bisogno di un enorme rilancio di un'azione internazionale di regolazione internazionale il contrario della deregolation il contrario del governo minimo a livello mondiale che è stata la parola d'ordine di Bush e di tutta la destra negli anni 2000 e bisognerebbe arrivare perfino a ridiscutere questa è la mia opinione anche proprio di nuovi accordi una nuova Bretton Woods e di nuovi accordi che regolino anche diversamente i movimenti di capitale a livello internazionale e l'altra la terza componente del neoliberismo è stata la denormativizzazione la sostituzione alla norma del negozio privato del contratto privato bilaterale tra due soggetti supposti simmetrici in realtà per definizione in una condizione di asimetria posto che uno è molto più potente e l'altro molto e quindi qui c'è una questione che immagino che con Stefano Rodotà sia stata molto discussa e anche con gli altri studiosi che pone in questione la stessa idea di legge e la stessa idea del diritto la funzione antropologicamente strutturante del diritto viene rimessa in discussione il neoliberismo è stato ed è tutto questo la crisi e il neoliberismo ci dà però anche un'opportunità immensa perché proprio per la prima volta quel velo ideologico che a volte molto spesso in assoluta buona fede le persone ricevono per esempio con l'alimentazione di un consumismo sprenato in quel meccanismo poi di economia a debito di cui parlavo prima ci sono delle tecniche raffinatissime con cui viene esercitata questa seduzione di massa che è poi un altro delle tecniche che viene usata anche a livello politico il meccanismo della seduzione della seduzione di massa della manipolazione delle coscienze è un meccanismo che noi sotto i nostri occhi ne vediamo tutti gli effetti negativi ma proprio perché ci viene appalesato in questo modo così chiaro siamo nella condizione di potercene liberare di scrollarci d'adosso questa schiavitù questa gabbia in cui noi stessi ci siamo collocati e la crisi in quanto tale ci indica con assoluta chiarezza quali sono le vie alternative che potremmo e dovremmo seguire per esempio più economia reale e meno finanza questa è una via che ci viene detta chiaramente quindi bisogna andare a una definanziarizzazione del globo e questo vuol dire anche riforme finanziarie molto più severe ma anche sulle linee che per esempio Obama sta portando avanti e anche più timidamente all'Europa ma lo stanno facendo e quindi ci vuole anche un'iniziativa perché quelle linee vengano rese più incisive per esempio la separazione tra attività commerciale e attività di investimento nelle banche deve essere perseguita che era una norma che addirittura aveva adottato Roosevelt negli anni 30 nel 1936 ma che era stata abolita nel 99 a quella bisognerebbe ritornare quindi più economia reale e meno finanza ma anche più economia reale di natura qualitativamente diversa noi abbiamo il problema di rilanciare la crescita ma in realtà il problema è duplice rilanciare la crescita ma mentre la rilanciamo cambiarne la natura e la qualità della crescita e quindi fare tutta una serie di cose che sono assolutamente alla nostra portata la green economy per esempio usare gli spazi urbani gli spazi di vita la ricreazione di spazi collettivi di discussione di riflessione per questo sono così affascinanti questi 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 agorà come questa di stasera come quella che sono che sono state create qui in questi giorni perché preludono alla possibilità di fare di questa cosa in fondo assolutamente talmente immateriale che è perfino spirituale diciamo così lo scambio di visioni di idee di valori la riconferma dell'importanza di grandi valori fare di tutto questo un'occasione di sviluppo che deve evidentemente cambiare anche la possibilità di essere misurato con indicatori diversi che non siano soltanto il PIR che non siano solo economicistici come l'economia neoclassica e neoliberista pretende di essere ma dobbiamo tornare alle visioni che erano addirittura di Adam Smith l'idea che ci fosse che ci fossero valori virtù che devono essere comprese e perfino l'aspirazione alla felicità nella produzione economica di un'economia molto più basata sulla qualità questo diventa molto importante una seconda linea anzi una terza linea per costruire un nuovo modello di sviluppo è sicuramente creare più spazi extra mercato e fare più spazio ai beni comuni ci sono tantissime cose che il mercato non può assolutamente soddisfare l'amicizia l'amore la cultura il desiderio di scambio la relazione la simpatia la felicità per l'appunto e tutte queste cose vanno sostenute sviluppate dentro questo si può anche ben pensare che l'altruismo che in realtà è una spinta molto più forte di quello che normalmente non si consideri le società non si leggerebbero se non ci fosse un enorme scambio altruistico che silenziosamente avviene tutti i giorni e ci lega l'un l'altro e ci rende cittadini e concittadini per l'appunto io non penso che sia questa la strada da seguire e voglio dire con chiarezza penso che qui nella mia opinione ci sia anche una distinzione tra le cose che pensano miei amici molto sostenitori della problematica dei beni comuni in termini non soltanto di proposizione di una problematica ingiustamente negletta o addirittura espulsa ma proprio come se potesse essere la risoluzione di tutto la panacea che a questo punto risolverà tutti i problemi e sostituisce integralmente anche il pubblico e anche il privato io non penso che le cose possono andare così e penso anche che in questa visione del comune che sconfina quasi con un comunitarismo endogamico stretto chiuso c'è il rischio di riproporre nuove esclusioni e c'è il rischio di riproporre anche un personalismo che io che sostengo il grande valore antropologicamente strutturante del diritto guardo con enorme diffidenza e non per caso nel libro Bianco di Sacconi c'è un abbondare di parole come persona comunità famiglia c'è uno sproloquio terrificante non è citata nemmeno una volta la parola cittadinanza quindi concludo per davvero io penso che tutte le cose che ho detto a proposito del rilancio di un nuovo modello di sviluppo richiedono un ruolo fortissimo del pubblico richiedono che si dia grande spazio agli spazi extramercato e ai beni comuni ma il ruolo del pubblico come guida come indirizzo come orientamento come amministrazione come fare come azione come stimolo che non è soltanto regolazione tutte queste parole che ho usato non sono sintetizzabili solo nella parola regolazione e qui c'è anche un'autocritica che il centrosinistra a mio parere deve fare perché il neoliberismo di cui vi ho parlato all'inizio ha visto troppa condiscendenza se non vera e propria connivenza anche da parte delle forze del centrosinistra soprattutto nella versione della terza via di Tony Blair qui c'è un balzo in avanti da fare che è anche un balzo di inventiva culturale dobbiamo riferirci per esempio alla grande creatività istituzionale che New Deal di Roosevelt è per mettere in azione chiamando una pluralità di attori a creare uno straordinario progetto di civilizzazione per gli Stati Uniti di allora io penso del resto che la mediazione la mediazione istituzionale per cui il diritto è fondamentale la mediazione terza la terzietà della mediazione sia fondamentale per non ricadere in una sorta di neofiedalesimo che vedo qualcuno anche studioso del diritto addirittura propone come via positiva io invece penso che neofiedalesimo significa tribalizzazione significa neotribalismo io penso a un pubblico quindi come mediazione terza ma penso anche a un pubblico come sfera pubblica alla Anna Areld e cioè costruzione dell'opinione comune argomentazione dare spazio all'argomentazione piuttosto che alla seduzione e alla manipolazione e all'invettiva e all'aggressività argomentazione dialogo comunicativo intersoggettività queste sono le cose fondamentali che vanno assolutamente conservate come eredità che ci vengono dall'illuminismo e che noi dobbiamo declinare in avanti producendo uno sforzo di innovazione culturale analogo a quello che Campolani suggeriva dove si dovesse compiere negli anni cinquanta a proposito della great transformation di allora io quindi per concludere davvero penso che ci vuole molta audacia normativa e cognitiva nel modellare questo pubblico dotarci di questa audacia cognitiva e normativa riconoscendo il fortissimo aggancio l'eredità con l'illuminismo da cui veniamo oggi ci mette nella condizione di ripartire per creare ripartire da un nuovo umanesimo per creare un nuovo umanesimo che è assolutamente la sfida che è davanti a noi ma che è anche alla nostra portata grazie ringrazio moltissimo Laura Pennacchi che non solo ha risposto alla mia domanda ma credo che ci ha indicato anche che cosa si può fare come possiamo uscire dalle nostre difficoltà ci sono abbiamo un po' di tempo forse prima della cena quindi se ci sono delle domande penso che il liberismo ha potuto trovare questo enorme spazio perché lei ha parlato dell'esperienza dell'illuminismo se parliamo dell'esperienza del socialismo reale parliamo di un fallimento recente la mia domanda non so se forse è ingenua oppure è difficile un modello ipotizzabile è un modello che esce dal capitalismo o no a questo punto vediamo se ci sono delle altre domande lei ha citato la Germania come paese che in questo momento si pone una posizione diversa volevo sapere se lei la considera tra i paesi che ha neoliberisti di destra che ci sono in questo momento in Europa e se la Germania che in questo momento è vista da me come una possibile alternativa ma non vorrei vedere male per alcuni aspetti se la Germania dal suo punto di vista oltre ad avere fatto una scelta di investimenti su istruzione a quello appunto a cui ha fatto riferimento lei prima sta facendo anche cose che sono nella direzione che lei ha citato come uscire dalla crisi con nuove opportunità e poi vorrei che per piacere mi chiarisse meglio proprio una domanda molto semplice cioè che cosa si intende nel piano sacconi con società civile ecco questo io non l'ho capito neppure guardando insomma avvicinandomi grazie altre domande possiamo intanto rispondere a queste non vedo altre domande tutte difficili però parto dalle relativamente più semplici che sono queste ultime cosa intende sacconi per società civile bisognerebbe domandarlo a lui io mi sforzo di interpretare e vedo che nel libro bianco su welfare che ha questo titolo la vita buona nella società attiva si chiama così c'è molta retorica c'è un dilagare di queste parole che non vengono mai definite quindi io credo di capire che società civile per sacconi significhi molto famiglia a cui vengono delegate tutta una serie di responsabilità e in particolare quindi con una recrudescenza del peso sulle donne enorme perché la divisione del lavoro di cura all'interno della famiglia non è mai stata così radicalmente modificata in Italia da pensare che si sia ormai risolta questa vera e propria discriminazione molto grave che pesa sulle donne ma in generale comunque questa familiarizzazione delle politiche che è una forma strisciante e diversa di privatizzazione anche quella perché le famiglie poi vengono lasciate sole come del resto sono lasciate solo le imprese ad affrontare i problemi della concorrenza globale o i problemi del mancato credito e così via credo che per sacconi società civile significhi in questo ambito in cui abbiamo ho detto di famiglia anche genitori che portano la carta igienica a scuola per i figli perché lì c'è poi il concorso di tutti i ministri di questo governo i tagli che sono stati fatti da Trimonti ma accettati senza proferire parola dalla Germini o così come è stato fatto per tante altre strutture tante altre età i tagli sulla scuola e sull'università sono talmente gravi che anche il materiale educativo fondamentale e perfino la carta igienica oggi le scuole non le dispongono più credo che società civile significhi anche molto enti bilaterali e questo mi rende enormemente preoccupata perché io penso che ci sia un ruolo che possano svolgere gli enti bilaterali che poi sono sostanzialmente gli enti gestiti dei sindacati per esempio nella formazione io penso che possano svolgere un ruolo importante ma quando come in un testo di legge è stato stabilito e addirittura in contratti che sono stati stipulati e firmati soltanto dalla Cisle Salaurin viene stabilito che dei lavoratori si possono con quel contratto prendere i contributi che vanno all'Inpsi e che pagano l'indenità di disoccupazione la previdenza e le altre strutture e le danno direttamente all'ente bilaterale e a questo punto l'ente bilaterale viene a gestire anche la previdenza viene a gestire anche direttamente gli ammortizzatori sociali questo io lo trovo lesivo dei principi universalistici della cittadinanza che fanno sì che se si stabilisce che c'è un ammortizzatore e in Italia gli ammortizzatori devono essere riformati e estesi dati ai milioni di precari che non hanno nulla se perdono il lavoro a cui loro sono strutturalmente esposti data la discontinuità e la mancanza di continuità nelle loro prestazioni lavorativi ma questo deve essere gestito universalistico con idee universalistiche tutti i lavoratori quando si trovano a subire un disagio a essere sottoposti a un rischio per esempio la perdita di lavoro o la malattia devono avere tutte le stesse condizioni se io invece consento che quella contribuzione esce dall'Inps e va nell'ente bilaterale il lavoratore che ha la fortuna di stare con un contratto in un'azienda che prevede quella prestazione l'avrà l'altro o l'avrà maggiorata o il lavoratore che non ha quella fortuna non l'avrà questo penso io proprio che sia molto negativo la Germania cosa penso della Germania e se la considero un paese neoliberista di destra sì assolutamente penso che le politiche che sta portando avanti la Germania con la Merkel è la Germania che ha spinto tutti i paesi a adottare queste politiche restrittive selvagge spingendo alla privatizzazione e con un'ostilità pregiudiziale verso tutti gli investimenti verso la spesa sociale poi è vero la Germania è neoliberista di destra è più conservatrice che neoliberista poi fa porta avanti tante politiche che contraddicono questo neoliberismo per esempio sostiene le proprie imprese non certo e fa politica industriale non certo secondo i dettami con cui l'Unione Europea interpreta i principi della concorrenza ma questo non è di per sé indicatore di una soluzione perché il neoliberismo non è mai esistito storicamente e spazialmente in forme pure è sempre esistito in forme spure combinando tutta una serie di elementi diversi per esempio Tremonti che io considero un neoliberista di destra è uno che combina privatizzazione tagli selvaggi che riversa soprattutto sugli enti locali e la finanza decentrata in modo che i cittadini se la prendano con il loro sindaco o con il presidente di regione invece che con Tremonti direttamente ma sono tagli terrificanti che fanno arretrare il perimetro pubblico e tuttavia Tremonti fa convivere questi tagli con un decisionismo colbertiano che non sarebbe limpidamente neoliberista è un neoliberismo spurio come io ho argomentato spiegato e come tanti autori fanno spiegano ma io mi sono dedicata molto a questo in un altro libro che si chiama La moralità del welfare contro il neoliberismo populista che era uscito da Donzelli la Germania è comunque molto più saggia degli altri paesi neoliberisti anche il governo della Merkel perché per esempio nel fare politiche restrittive poi però destina comunque una quantità enorme di investimenti all'università alla ricerca all'industria e quindi fa delle cose molto molto più ragionevoli noi abbiamo un neoliberismo proprio da cattone il governo della Merkel può anche valersi di una struttura tedesca da economia sociale di mercato che però è stata creata nel cinquantennio dopo la guerra e a cui la socialdemocrazia ha dato un concorso assolutamente fortissimo enorme il modello dell'economia sociale di mercato a me interessa moltissimo nel libricino di Berselli l'economia giusta quel libricino che Berselli ci ha lasciato come che ha scritto negli ultimi mesi che hanno preceduto la sua morte quando lui sapeva che stava morendo e ha voluto comunque scrivere quel libricino che è bellissimo l'economia giusta lui propone per l'appunto l'economia sociale di mercato come un modello per il futuro ma non è non sono le azioni della Merkel è qualcosa dove la democrazia economica conta molto e io vorrei che anche la democrazia economica contasse molto in Italia e che i sindacati compreso la CGL si facessero promotori di un ciclo di affermazione della codeterminazione della partecipazione alle informazioni e si riprendesse una politica che era stata portata avanti negli anni 80 di almeno concorso alla conoscenza sulle informazioni sui piani di investimenti che era stata molto promettente e la domanda più difficile riguarda l'eredità dell'illuminismo le conseguenze del crollo del socialismo reale sì indubbiamente è stato molto il crollo del socialismo reale l'89 la caduta del muro di Berlino la manifestazione di tutte le inadempienze delle promesse mancate che anche il socialismo reale aveva fatto e non ha saputo assolutamente soddisfare anzi perché negli anni 90 il neoliberismo è rimasto da solo imperante però un contratto maggiore avrebbe potuto essere operato e in ogni caso ci impegna oggi a ricostruire uno sforzo analogo dal punto di vista culturale perché il neoliberismo non va sottovalutato minimamente noi dobbiamo ricostruire uno sforzo analogo dal punto di vista culturale per liberarci da quella soggezione e per indicare un nuovo modello di sviluppo guardate che il neoliberismo aveva cominciato a lavorare subito dopo la guerra Fonai che scrive il suo libro sulla libertà nel 44 nel 47 Fonai Popper e altri danno vita al manifesto della Pilgrim Society in cui già dicevano tutta una serie di cose che hanno potuto affermarsi soltanto ben dopo la fine del trentennio dei trentanni gloriosi che hanno visto invece le politiche chinesiane le politiche di sviluppo delle politiche sociali affermarsi nei paesi sviluppati e che sono state messe in discussione dall'avvento della prima crisi petrolifera che avvenne nel 74 e poi la seconda nel 79 nel ragionare sul futuro francamente io non mi credo se il modello che dobbiamo costruire esce o no dal capitalismo non è personalmente non mi chiedo non ritengo questa la domanda da cui mi faccio guidare e semmai mi faccio guidare da una ripresa di interesse che personalmente approvo sulla problematica dei tipi di capitalismo ci sono vari tipi di capitalismo l'economia sociale di mercato è uno di questo ed è molto più umano molto più accettabile va molto di più nella direzione del neumanesimo di cui parlavo discutere dei vari tipi di capitalismo significa anche contestare quel presupposto della convergenza verso un modello unico che poi era il modello anglosassone il modello neoliberista anglosassone che è un altro dei presupposti che gli economisti hanno messo a base della loro disciplina degli standard della disciplina economica l'idea che tutti dovessero convergere verso un sistema unico io non penso affatto che sia così anche la grande stagione dell'Europa e anche il rilancio delle politiche europee dell'idea dell'Europa come unificazione politica che possa portare quindi anche a una vera integrazione dell'economia e delle società europee è un'idea che nasce dalla contestazione dell'inevitabile convergenza verso un modello e un sistema unico io penso che sia molto più interessante ragionare in questi termini e oristicamente farsi guidare quindi da questo tipo di interrogativi che possono avere una forza di ricchezza di mobilitazione delle risorse anche argomentative che sono dentro ciascuno di noi dentro le nostre interiorità che però vogliamo sviluppare all'esterno io penso che questo possa essere molto fruttoso grazie grazie ancora Laura Pennati grazie a tutti voi ci rivediamo domani mattina buonasera grazie a tutti